Attualmente abbiamo un momento di tregua, abbiamo comunque dei casi a livello nazionale, ma non solo, purtroppo ancora dei decessi. La situazione però non è così drammatica al momento attuale. Cosa si prevede? Certo che l'apertura delle scuole, con il freddo che ovviamente favorisce l'infezione, e con la vita che si farà nei prossimi mesi sempre di più al chiuso, è naturale che probabilmente ci sarà una nuova impennata epidemica di questa infezione. Però io confido nel buon senso degli italiani, ad esempio sull'uso della mascherina, anche perché attualmente pare che probabilmente non ci sarà più l'obbligo, se non in alcuni ambiti. E poi nell'avvento di questi nuovi vaccini, che sicuramente sono stati testati altrove, non ancora in Italia, ma pare che rappresentano veramente un successo per quanto riguarda il contenimento dell'infezione. Sono vaccini che sono stati disegnati sulla variante Omicron, quindi sicuramente nuovi rispetto ai vaccini convenzionali, definiamoli così, finora utilizzati, che invece erano stati disegnati sul virus cosiddetto Wuhan, il primo che ha dato problematiche all'umanità intera.